Preghiera e dolore per il terremoto che nella notte ha devastato il centro Italia lasciando dietro di sé morti e macerie. Il pensiero commosso di Papa Francesco all'udienza generale in piazza San Pietro è andato a quanti ora stanno soffrendo per la scossa sismica che ha colpito il Lazio, l'Umbria e le Marche. Lasciando ad altro momento la catechesi preparata per l'occasione, il pontefice ha chiesto ai presenti di pregare insieme una parte del rosario. Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto. E per questo voglio assicurare a tutte queste persone nei presi di accumuli Amatrice o altrove, nella diocesi di Rieti e di Ascoli Piceno e le altre in tutto il Lazio e nell'Umbria e nelle Marche, la preghiera e dirgli di essere sicure della carezza e dell'abbraccio di tutta la Chiesa che in questo momento desidera stringervi con il suo amore materno anche del nostro abbraccio qui in piazza. Nel ringraziare tutti i volontari e gli operatori della protezione civile che stanno soccorrendo queste popolazioni, vi chiedo di unirvi a me nella preghiera affinché il Signore Gesù, che sia sempre commosso dinanzi al dolore umano, consoli questi cuori adolorati e doni loro la pace per l'intercessione della Beata Vergine Maria. Lasciamoci commuovere con Gesù.